non l'ho mai provata la prossima volta ora è pentolata kamankai to ripiglio un kamankai to non il curcuma è tipo il kamankai però è con il pollo fritto e qui c'è quello il pollo fritto con il ciotolino fanno la porzione del riso 30 batti e 40 batti buono volendo danno anche la zuppa ma non la piglio quasi mai dal po' di citriolini oh va ragazzi stasera abbiamo risolto 80 batti e due porzioni di kamankai to riso con il pollo fritto in panaffa grazie a tutti grazie a tutti